carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore riempie l'universo la sua misericordia avvolge ogni creatura la compassione del signore verso i suoi figli deboli e fragili peccatori la sua bontà è verso tutti e questa grazia del signore che dall'eternità dura per sempre per quanti lo temono lo accolgono si sottomettono a lui oggi la chiesa 22 di agosto domenica ventunesima domenica verannum celebra anche la festa di santa maria regina guarda la madonna questa che otto giorni fa abbiamo visto nel suo mistero di assunzione la gloria guarda la madonna come regina del cielo e della terra infatti la chiesa oggi ci fa avvolgere lo sguardo a maria regina perché regina lei figlia di dio si è figlia di dio amata da lui scelta da a lui predestinate essere madre del figlio suo gesù cristo e maria in tutte è stato osservante della parola di dio sottomessa a lui eccomi sono la serva del signore si faccia di me secondo la sua parola e questa obbedienza della madonna la portata non solo a praticare la volontà di dio ma accettare anche tutte le battaglie le sofferenze connesse alla sua missione di madre del figlio di dio e lì accompagnata sempre gesù questa persecuzione cominciata già al tempo di erode proseguita poi durante la vita di gesù dai nemici che lo volevano morto e alla fine madonna partecipata alla passione di gesù e la scrittura cosa ci dice san paolo nella seconda lettera timotio dice se moriamo con lui con gesù con lui anche vivremo nella lettera romani al capitolo sesto l'apostolo paolo dice appunto che noi veniamo conformati alla morte di gesù per essere conformati anche alla sua gloriosa risurrezione se perseveriamo con lui con lui anche regneremo sempre nella lettera romana l'apostolo paolo aggiunge che come siamo partecipi della passione di cristo e della morte di cristo così siamo partecipi anche della sua del suo regno regneremo insieme con lui vedete fratelli quando gesù si sente chiedere da la pietra ecco noi abbiamo lasciato tutto ti abbiamo seguito che cosa riceveremo incontro a cambio e gesù annuncia voi siderete voi che mi avete seguito nella nuova creazione siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di israele signore ci costituisce sovrani e la madonna fratelli è stata costituita dal signore signore del cielo e della terra perché in tutto è stato conformato a gesù cristo allora come ha partecipato alla sua passione partecipa oggi alla sua gloria siede regina del cielo e della terra e qualunque cosa essa chiede ottiene infatti santi hanno sempre definito la madonna onnipotente per grazia onnipotente dio solo onnipotente ma gesù comunica la sua santa madre la sua regalità ricordate costantino quando divenne imperatore dei romani sua madre aveva era stato ripudiato dall'imperatore costanzo e quindi la mamma di costantino santela era stata messa da parte quando però costantino divenne imperatore volle nominare sua madre augusta detta a sua madre il proprio titolo di imperatore augusto e detta a sua madre anche la libertà di accedere ai tesori dello stato per cui santela non poteva attingere alle so alle risorse dello stato per aiutare i poveri per costruire basiliche per diffondere il vangelo costantino gli aveva date mano libera ecco la madonna ha ricevuto da gesù mano libera è stata nominata augusta c'è sovrana accanto al suo figlio gesù cristo signore del cielo della terra e piace gesù glorificarla fratelli mandando la spesa del mondo ad annunciare la pace a portare misericordia a guarire gli infermi gesù è glorificato in maria e la prima delle salvate onnipotente per grazia la piena di grazia e tutto ciò che le chiede le viene accordato come costantino dava a sua madre tutto quello che voleva ma sapeva che sua madre era una santa non chiedeva i capricci e la madonna cosa chiede a gesù la salvezza dei suoi figli ricordate la barzelletta di padre pio padre vi raccontava spesso questa barzelletta dicendo che in paradiso si trovavano dei soggetti poco raccomandabili ma da dove sono entrati questi diceva gesù che chiamò san piero e disse senti pietro io ti ho messo alla porta per fare mettere ordine su quelli che devono entrare eccetera e da dove sono entrati tutti questi che non e san pietro rispondeva signore cosa vuoi non sono entrato dalla porta queste sono scherzi di tua madre che li ha fatti entrare dalla porta di dietro tua madre non esclude nessuno dalla misericordia e infatti nel cuore di maria fratelli noi possiamo contemplare la grandezza della misericordia di gesù la grandezza della misericordia di dio non c'è contrasto tra madonna e gesù sono un cuore solo un cuore solo uno spirito unico unito dallo stesso mistero dell'incarnazione della passione della morte della resurrezione come lei ha sofferto con gesù oggi regna insieme a lei e noi possiamo far triunfar la madonna in noi fratelli in che modo aprendo del cuore amandolo e lasciandoci amare da lei attraverso la pratica della consacrazione che è il consacrato e con lui che riserva la sua vita per quello scopo consagrarsi la madonna dire appartenerle affidarsi al suo amore come chi ne appartiene e ubbidisce a lei e la fa triunfare la fa governare ecco la dice san luigi grinone forte come lo schiavo è sottomesso al suo padrone così io sono sottomesso all'amore di maria perché quell'amore invada la mia vita e voi vedete quale grande quanti santi hanno raggiunto altissime vette appunto attraverso l'amore della madonna che è una via che ci apre l'accesso al cuore di gesù è una strada è una grazia che dobbiamo accogliere per penetrare sempre più nel cuore di gesù nell'amore di gesù allora invito fratelli a rinnovare il vostro battesimo nelle mani della madonna affidando il vostro cuore a lui e la madonna come giugori più volte negli ultimi tempi ha avuto dire chi mi appartiene non dovrà temere nulla in questi tempi difficili doniamoci a lui affidiamoci a lei con tutta la nostra anima affidiamoci a lei con tutto il cuore e nel vangelo di oggi noi sentiamo la nella messa della domenica che viene celebrato le ultime parole di gesù dal vangelo del sesto capitolo di san giovanni gesù dopo aver parlato del pane di vita si vede abbandonato da tanti discepoli che trovavano duro quel linguaggio di gesù dovete mangiare di me io devo essere vita della vostra vita gesù certamente non voleva dire che bisognava zannare la sua carne e il suo corpo ma a nutrirci della sua vita e la sua vita costituita al suo spirito che si manifestava nella sua parola e il suo insegnamento che si manifestava nella sua carità nel suo amore nel suo zero per le anime ma tanti si accettavano questo discorso di gesù dovevano in qualche modo staccarsi dalle parole e dalla legge di mosè e allora preferirono abbandonare gesù tanto che lui un giorno disse agli apostoli ve ne volete andare anche voi e gli apostoli e gesù san pietro rispose signori da chi andremo tu solo hai parole di vita eterna gesù tu sei la parola di tu sei la vita eterna e attraverso la tua parola tu ci comunica il tuo spirito e la tua vita come l'hai comunicata la tua santa madre che hai costituita regina del cielo e della terra e tu vuoi che ognuno di noi un giorno con te sieda nella gloria come tanti santi oggi sono nella gloria fanno sentir la potenza della loro intercessione perché sono stato sotto messo a te in tutto e per tutto signor questo il tuo progetto non solo salvarci ma introdurci nella gloria farci regnare insieme a te se con lui moriamo con lui anche muore regneremo queste parole dell'apostolo le vogliamo imprimere il nostro cuore signor donaci questo abbandono pieno nelle mani della tua santa madre per adena te con tutto noi stesso alte gloria onore potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli amen e nel tuo cuore vergine santissima c'è posto soltanto per l'amore per i tuoi figli e tu vuoi la salvezza di tutti in te ieri fratelli una una donna mi ha fatto vedere le foto dell'immagine della madonna che è collocata in un reparto di un ospedale dove lei lavora e questa immagine più volte ha fatto vedere lacrime di sangue lei mi faceva vedere le foto che ha scattato e le documentazioni di questo piccolo fenomeno perché perché la madonna ama 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 e soffre con i suoi figli soprattutto quando si allontanano da dio vergine santissima tu che ami i tuoi figli perdutamente li ami in gesù cristo li ami nello spirito santo fa converte tutti i cuori fa che tutti torniamo a te anche nemici della fede anche nemici della chiesa siano rinnovate rigenerate ricondotte a dio padre per me di gesù signore e salvatore nostro a cui salgo ogni lodo e gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen e la liturgia di oggi fratelli ci mette davanti la letra di san paolo gli efesini dove parla di matrimonio il matrimonio è unione di cuore dello sposo e della sposa che uniscono il loro cuore fino a fonderli in uno e lo scopo del matrimonio è realizzare la comunione di amore il matrimonio nel luogo del libertinaggio non è luogo del divertimento sensuale questa è la negazione del matrimonio matrimonio è unire le vite i cuori nel profondo per essere un corso un'anima sola e che quanti di voi hanno contratto questo matrimonio sacramento bene i fratelli la vivono con la guida di maria nella santità dell'amore e nella famiglia regni sull'amore gioia pace amen